La cospirazione contro Boito. A cura dell'Associazione Amici di Arrigo Boito. I comunisti. I massoni. I savi di Sion. La CIA. Il KGB. Gli anarchici baschi. Gli invisibili. Il Ku Klux Klan. La Chiesa Cattolica. I servizi deviati. Pedrotti. Chi si nasconde dietro al silenzio abilmente orchestrato attorno ad Arrigo Boito? L'Associazione degli Amici di Arrigo Boito non tarderà a scoprirlo. I comunisti. La tesi più quotata è ovviamente quella del complotto comunista. Eppure, cercheremo in vano nella biografia dello scapigliato Boito ragioni che giustifichino tale incivile ritorsione. Se è vero che, come notava Eric Satie a proposito del suo amico Debussy, spesso i grandi innovatori nel campo dell'arte sono conservatori in campo politico, e così era Boito, mazziniano moderato ma socialmente conservatore, patriota e garibaldino e engagem anti-rivoluzionario. Non sembrano esserci gli estremi per una fatva nei confronti di un personaggio la cui timida ideologia, più di sinistra riformista che di destra conservatrice, emerge da un contesto che lo giustifica pienamente, diversamente dai poeti di regime d'annunzio o marinetti. È nella sua opera, quindi, che vanno cercate le ragioni, e, in particolare, nell'epica figura di Reorso, orgoglioso modello di condottiero, padre amorevole e eroso dei suoi sudditi, figura imponente carica di virtù, insomma supremo modello di comportamento virile, Reorso è senza dubbio il modello al quale si ispirò, con risultati certo ben poco riusciti, Benito Mussolini. Comprensibile, quindi, che si sia voluto evitare, con una vergognosa opera di censura culturale, che le nuove generazioni di giovani potessero imitare Reorso e diventare a loro volta dittatori. Comprensibile, certo, ma ingiustificabile, laddove si consideri valori estetici dei quali l'umanità è privata in tal modo. I massoni. Boitofu, come molto dei suoi contemporanei, amici e colleghi, massone. Non è quindi accettabile l'ipotesi che causa del silenzio attorno a Boito sia un complotto giudeo-massonico, anche se a dire il vero non è del tutto da abbandonare l'ipotesi sionista, sulla quale formeremo un'apposita squadra di lavoro, a meno che non si tratti di una forma di vendetta trasversale o regolamento di conti interno al Grande Oriente, in proposito scriveremo una lettera ufficiale al Gran Maestro per chiedere delucidazioni. Forse nelle opere di Boito sono nascoste, tra pesanti simbolismi alchemici, indizi di una cospirazione che lui già sentiva avvolgerlo. Invitiamo i soci a proporre spunti per una riflessione ermeneutica su un'opera che, seppur si concluda con l'invito a non cercarvi né savio motto, né aforismo dotto barra né sermo perno, di morale eterno appare densa di allegorie e sensi nascosti, dai quali questo monito vuole solo forse allontanare i meno accorti, ignari della forza dirompente delle rivelazioni ivi contenute. La Chiesa Cattolica Boito era senza dubbio un nemico temuto, un baldo combattente della resistenza antipopista che in quanto tale andava reso incapace di nuocere, attraverso manovre di oscurantismo selettivo. Molti testimoni descrivono Boito come ateo, ma quella che è certa è la sua affiliazione alla massoneria, in chiave non solo speculativa, ma politica, e quindi, all'epoca, nemica di Roma e delle sue emanazioni ideologiche. Per quel che riguarda il suo pensiero filosofico, la presenza di temi ignostici nella sua opera non può che attirare l'inimicizia dei cattolici. In quanto madre di tutte le eresie, la gnosi rappresenta l'archetipo del male intrinseco che il dogma deve eliminare per sussistere. A partire da essa, Boito sviluppa una serie di riferimenti sincretici. Dal dualismo di fondo della sua cosmologia, gnostico-manicheo, fino all'evocazione di personaggi storico-leggendari come Simon Mago Zoroastro, insegnira, o la tranquilla dignità del popolo musulmano, nella falce, che già aveva affascinato Goethe e tanti altri. Lo scontro si fa più acceso laddove ignosti e massoneria rivelano i loro legami, sviluppati più dalla tradizione apologetica cristiana che nella realtà, con il satanismo, con il quale Boito gioca ampiamente, e provocatoriamente, oncentrandosi sul personaggio di Mephistofele, rovesciando i segni della fede nere orso, evocando atmosfere blasfeme e orgiastiche che sopraffanno la cristianità nel Nerone. Forse qualcuno ha creduto buono mettere a tacere a Rigo Boito, la cui morte misteriosa lascia certo molto a pensare, la versione ufficiale parla di una rissa in una guerreria di Monaco durante l'Octoberfest, ma numerosi testimoni affermano avere visto chiaramente del fumo dalla collinetta arbosa, e certamente più di tre proiettili, da almeno due direzioni. Ma per un silenzio coatto, dieci, cento, mille voci sono pronte a parlare, a urlare la verità, a diffondere la sua poesia, a svelare il complotto. A Rigo non tacerà mai, e la sua poesia continuerà ad accusarvi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.